Il rialzo dei tassi e soprattutto la stretta del credito da parte delle banche penalizzano il mercato delle compravendite delle case. Si nota l'effetto della restrizione monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea per frenare l'inflazione. Il quadro è emerso durante la presentazione dell'osservatorio immobiliare del Friuli Venezia Giulia della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. A pagare Dazio sono in particolare i giovani, coloro cioè che solitamente hanno meno garanzie e meno capitale da affiancare ai mutui, che ormai sfiorano il 5% di interessi per un fisso. Più che altro la difficoltà non è tanto il tasso del mutuo quando la possibilità di accedere al credito dove le banche effettivamente hanno tirato un po' le cinghia e quindi è un po' più difficile per le coppie giovani riuscire a avere un mutuo e tranno traslando sulla parte locativa. Il 2023 insomma non sarà positivo come il 22 è il migliore da 16 anni. Le compravendite scenderanno di oltre il 5% a livello territoriale e vanno meglio in particolare Trieste e Gorizia. In entrambi i casi pesano gli investimenti dall'estero e c'è chi acquista senza nemmeno vedere di persona l'immobile. I virtual tour, direttamente le visite col cellulare mostrando le immagini degli immobili, quindi per chi non riesce spesso capita anche questa cosa. Abbiamo anche le firme digitali a distanza sui preliminari che sicuramente hanno aiutato. I prezzi degli affitti continuano a salire anche per il successo degli affitti brevi. Su questo diversi sindaci italiani chiedono di stringere le maglie. Il governo vorrebbe proibire il pernottamento in case private per una sola notte, ma la FIPE dice no. Non porterà un grande mutamento per quanto riguarda le locazioni brevi turistiche che in questo momento guardando i dati mediamente è soltanto il 5% avveniva per una notte. Ma è una questione dei principi a cui questo Paese, se vuole essere orgoglioso di chiamarsi tale, non deve accettare.